Siamo davanti al distretto sanitario qui a Nereto dove alle mie spalle vedete le tende che erano state montate per effettuare il pretriage anche per ciò che riguarda i servizi ambulatoriali, tra l'altro questi servizi da oggi come probabilmente saprete sono sospesi. Da Nereto vogliamo anche provare a fare una sorta di riassunto di quella che è la situazione in Val Vibrata a partire proprio da Nereto dove è stato attivato il COC poi insomma vedremo quali sono i comuni che hanno fatto lo stesso tipo di scelta. All'ingresso del comune di Nereto una serie di transenne proprio per filtrare quello che è l'accesso agli uffici e a quegli uffici si entra uno alla volta. Sono tanti i comuni che hanno fatto scelte di questo genere parlavamo prima del COC, COC attivato nei comuni della costa in Val Vibrata, a Tortoreto, ad Albadriatica e anche a Martinsicuro e poi oltre a Nereto nell'interno della Val Vibrata anche a Santomero, a Corropoli e a Civitela del Tronto. Insomma sono quasi tutti i comuni che hanno fatto questo tipo di scelta. E oggi si avverte insomma che c'è grande disciplina, la gente si sta muovendo sicuramente molto meno anche rispetto a ieri anche ieri avevamo provato a monitorare anche dal punto di vista visivo quella che era la situazione. Una Val Vibrata attenta, molti i posti di blocco che abbiamo visto, la gente anche qui entrando in questa struttura sanitaria alle mie spalle, si munisce molto più e sempre più frequentemente delle mascherine che abbiamo visto praticamente in 8 persone su 10 per intenderci. Questa è più o meno la situazione che abbiamo riscontrato questa mattina cercando insomma di vedere anche dal punto di vista delle immagini che cosa stava succedendo. A proposito di questa situazione siamo andati ad ascoltare le parole telefoniche perché anche in questo ambito non abbiamo intercettato personalmente l'interlocutore abbiamo ascoltato un riassunto e un primo bilancio di queste prime ore, di questa prima giornata della chiusura totale, della chiusura insomma del provvedimento del governo dal sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni. Lo ascoltiamo nel prossimo servizio.